Ciao a tutti ragazzi, oggi finalmente andiamo avanti con i tutorial dedicati a Betaflight 4.3 e ci fionderemo a bomba nella tab del PID tuning ed in particolare gli slider e vedremo quali sono i più importanti processi che si seguono utilizzando gli slider per effettuare un tuning del vostro drone al bacio io sono Davide, se non l'hai fatto mi raccomando iscriviti al canale qui in basso il pollicione in su l'hai già messo, lo so, attiva la campanellina per ricevere tutti gli aggiornamenti se mi vuoi supportare un po' di più entra nella famiglia che abbiamo su Patreon trovi il link qui sotto in descrizione apriamo il nostro configurator e andiamo nella tab PID tuning e in particolare nella sezione PID profile settings qui oggi ci concentreremo su tutto quello che sta a sinistra vedremo la parte numerica dei PID e appunto gli slider che stanno subito sotto in base al tipo di slider che adesso vi spiego spostandoli verso destra andiamo ad aumentare i valori spostandoli verso sinistra andiamo a diminuire i valori di che valori stiamo parlando? di quelli che vedete in questa tabellina qui in alto che ovviamente sono suddivisi nei tre assi in cui si può muovere il drone posso andare a toccare il proporzionale, l'integrale, il derivativo il derivativo è suddiviso in due colonne cioè il Dmax e il derivativo base pure qui posso giocarmela con un dinamismo che adesso vi vado a spiegare e infine ho il feedforward sintetizzo e semplifico proprio al volo questi termini che avete sentito proporzionale P push se lo vado ad aumentare vuol dire dare più potenza più spinta nell'ingresso del movimento che sto facendo quindi da più carattere al drone la I è una sorta di controllore che sta lì per vedere se tutti gli altri stanno facendo bene il loro lavoro e se c'è qualche errorino qualche difetto nel tempo sta lì e lo corregge quindi è quello un po' meno incisivo di tutti gli altri parametri la D derivativo D come dumping sta lì e controlla il lavoro della P fa sì che se la P diventa troppo potente, spinge, diventa erruenta non si riesce bene a controllare la D sta lì che limita il lavoro della P perché per il derivativo ho due colonne Dmax e derivativo base? perché a volte siccome la D è molto delicata quando la andate a toccare molto sensibile alle vibrazioni causa se non ci state attenti causa pure difetti di tuning in volo di surriscaldamento e via discorrendo è stato introdotto la possibilità di avere anche un range quindi quando io volo normale non esagero non muovo gli stick eccetera sto sempre al valore base quando vado a esagerare con gli stick quindi il mio flight controller percepisce che sto diventando il ruento allora che fa? sposta l'ago di questa bilancia verso il valore di Dmax e va a introdurre un'AD più eccessiva ma solo quando serve il giusto rapporto tra queste due caratteristiche fa sì che il drone voli alla perfezione il feed forward altro non è che anticipare un po' il lavoro del proporzionale quindi visto che il proporzionale agisce quando c'è un errore quindi sta sempre un po' a rincorrere i comandi del pilota il feed forward sta là che dice mamma il pilota vuole fare questo io lo anticipo e dico già al drone ma inizia a farlo perché tanto quello sarà l'obiettivo e quindi fa sì che il drone aumenti un po' la reattività chiusa parentesi fiondiamoci sugli slider se non abilito l'expert mode ho solo questi tre slider fondamentali che sono il dumping, il tracking e lo stick response quindi già il fatto che vedete questi tre slider lì vuol dire che effettivamente per un feed tuning decente basterebbero questi tre slider fondamentali ma se abilitate l'expert mode che trovate in alto a destra non solo sbloccate il limite perché se non sto con l'expert mode posso spostare i valori solo fino a un certo punto e questo è un blocco che hanno messo gli sviluppatori perché giocare in modo esagerato con i feed vi può portare pure a cadute, a crash rompete, surriscardate i motori, rompete l'elettronica quindi bisogna sempre giocare con questi valori con molta attenzione quindi andando ad abilitare l'expert mode sblocco la possibilità di muovere gli slider come voglio in alto o in basso e abilito tutta una serie di slider che sono tutti gli strumenti di cui ho bisogno per finalizzare un ottimo tuning sul mio drone e adesso li vediamo partiamo subito con la visuale in expert mode perché tanto i tre slider base sono sempre quelli li vedete stanno lì quindi se volete potete toccare solo questi tre oppure andarli a toccare tutti innanzitutto perché sono stati introdotti gli slider e perché si è deciso di lasciarsi alle spalle l'introduzione dei valori numerici perché ragazzi la chiave di un ottimo PID tuning è trovare quello che si chiama razio cioè il giusto rapporto che c'è tra una variabile e un'altra quindi quando io ho trovato questo giusto rapporto a quel punto grazie allo slider quel rapporto diventa una costante magari il drone l'ho appesantito io ho tolto peso voglio provare a aumentare le performance e spostando gli slider se ho trovato il giusto rapporto questo non mi cambia ed è un vantaggio vi assicuro enorme prima si facevano dei calcoli, delle formule adesso grazie agli slider è stato semplificato tutto per chi però è ancora affezionato ad inserire i valori a mano oppure vuole apportare delle piccole modifiche lo può fare perché una volta che ha raggiunto i valori che gli piacciono con gli slider può cambiare questo mod che vedete qui mettendolo ad off e vedete che gli slider si disabilitano lasciando i valori che avevate raggiunto e vi dà la possibilità di inserire poi a mano quelle piccole modifiche di cui avete bisogno nel mod trovate anche questi valori R, P, Y che sta per Roll, Pitch e Yo che quindi vi consente di andare a modificare con gli slider tutti i valori in modo equilibrato su tutti e tre gli assi oppure per alcune build a volte si fa sulle build un po' più piccoline posso pure decidere di mettere R e P quindi vado a lavorare con gli slider solo sull'asse del Roll e del Pitch e lascio libero lo Yo in modo tale che posso andare a inserire a mano i valori passiamo ora agli slider innanzitutto gli hanno dato dei nomi per cui è più facile capirli allora il primo slider è quello del dumping quindi interagisce proprio sulla D, sul derivativo vedete che spostandolo a destra o spostandolo a sinistra va a toccare le colonne che abbiamo visto prima del Dmax e del Derivative a che cosa serve? L'abbiamo detto un po' prima serve a limitare, ok? a un po' contenere il lavoro della P quando io vado a fare un Roll se la mia P sta spingendo parecchio ok? sta spingendo nel movimento io decido di bloccarlo qui se la P spinge troppo voi avrete quello che si chiama Overshoot quindi andate un po' oltre l'asse, ok? e poi ritorna perché comunque la P si corregge da sola per limitare questo movimento che attenzione non dovete confondere con il Wobble che vediamo dopo quindi è un movimento veloce zzz, sentite in aria con il suono dell'orecchio andate ad aumentare la D per smussarlo quindi smussandolo quando lui va a chiudere il movimento andate a correggere questo piccolo difetto che c'ha passiamo al secondo slider importantissimo è quello del tracking che interagisce sulla P e sulla I insieme ok? questo l'hanno chiamato tracking perché? perché andandola ad aumentare vado a rendere il mio drone più solido alle linee, ai movimenti che vado a disegnare quindi se sentite il vostro drone che si muove non è bello solido non tiene bene il naso nella direzione in cui state decidendo di andare mentre pilotate ebbene aumentate il tracking e lui tracca meglio la linea che state desiderando questo slider tocca la P e la I insieme ma non va a toccare appunto la D è proprio il movimento a destra a sinistra di questi due slider tracking e dumping che è fondamentale per trovare quello che vi dicevo prima il giusto rapporto tra la P e la D poi passiamo allo sick response che interagisce sul feed forward e vado ad aumentare il modo in cui il drone anticipa un po' il lavoro del tracking spieghiamolo un po' così fa sì di rendere il drone ancora più reattivo ecco perché in genere questo slider si mette sempre alla fine perché è probabile pure che non serva in quanto con il tuning avete fatto un ottimo lavoro il dynamic dumping posso decidere mettendolo a zero di disattivare quell'intervallo che vi dicevo prima di dinamismo che c'è tra la D oppure ho dei difetti da correggere ho i motori un po' caldi in certe occasioni quindi voglio più questo dinamismo così vado a correggere quei difetti di temperatura di D alta che ho magari quando faccio cruising ok o quando non esagero e quando invece mi serve che sto facendo i trick c'ho la possibilità di avere un D max che interviene questo slider è direttamente connesso con la sezione che vedete qui del dynamic dumping che di solito non si tocca perché sono valori preimpostati che sono equilibrati un po' per tutte le build dopodiché andiamo allo slider drift wobble anche qui sono stati molto diciamo geniali gli sviluppatori di betafare perché che cosa ci stanno dicendo che se ho drift che cosa si intende drift vabbè lo sapete insomma avete visto qualche film sulle macchine sarebbe che il drone magari quando curva tende un po' a scodare quindi non tiene bene drifta ok se ho drift e vedete l'hanno messo a sinistra vuol dire che il mio slider sta troppo a sinistra cioè lo devo devo spostarlo più a destra devo andare ad aumentare i valori se invece avete fenomeni di wobble che non dovete confondere con l'overshoot perché il wobble è proprio una oscillazione lenta che ci avete magari o sull'asse del roll o sull'asse del pitch ma è lenta allora vuol dire che il vostro slider sta troppo a destra perché vedete wobble l'hanno messo a destra quindi devo un po' andare verso sinistra la chiave nell'utilizzo di questo slider è proprio trovare il giusto mix che c'è tra drift e wobble ah finalmente hanno messo questi due slider che sono il pitch dumping e il pitch tracking questi sono stati messi lì perché a volte le build hanno un diverso comportamento tra l'asse del roll diversi pesi diversi baricenti tra l'asse del roll e l'asse del pitch e quindi ho la possibilità di andare a toccare il dumping e il tracking solo su quest'asse così come l'abbiamo spiegato prima non cambia assolutamente nulla e per ultimo abbiamo la ciliegina sulla torta che è il master multiplier con il quale posso a destra aumentare a sinistra diminuire in modo equilibrato tutti i razio quindi i rapporti che ho trovato con il lavoro che ho fatto prima sugli slider quindi posso andare a aumentare tutti i valori all'unisono o li posso andare a diminuire e in genere si utilizza quando vado ad aggiungere o togliere peso sul drone quindi ho il vantaggio che non tocco i miei rapporti che con tanta fatica ho trovato ma posso dire ho messo del peso in più voglio un po' aumentare i miei PID perché ho proprio questo peso che deve essere portato oppure l'ho alleggerito e magari diminuisco un'altra cosa per cui si utilizza è per l'aumento delle performance perché una volta che io ho trovato il giusti razio potrei decidere di aumentare o diminuire le mie performance con questo slider quindi andando a destra provo ad aumentare le performance fino a che non esce qualche difetto insomma e poi mi fermo questi sono gli slider adesso vi spiego al volo come si utilizzano e quali sono i tre più importanti processi che si seguono la prima cosa che si fa quando vado sul campo a fare tuning con gli slider è il settaggio di un drone pronto per ricevere il tuning che cosa vuol dire che devo eliminare tutto ciò che è dinamico che aggiunge componenti di dinamiche perché se no non riuscirò mai a trovare i giusti rapporti tra i miei slider quindi che devo fare devo mettere il feed forward lo slider del feed forward tutto a zero perché il feed forward non ci deve stare e levo pure il dynamic dumping quindi dynamic dumping a zero perché voglio la D che sia una costante se no non troverò mai il giusto rapporto un'altra cosa che si fa si abbassa di un po' il drift wobble perché non vogliamo un po' che la Ici ci nasconda il lavoro che stiamo facendo con questi due slider importantissimi che sono il dumping e il tracking fatto questo ci sono tre processi che posso seguire il primo è il processo del dumping mentre faccio i miei voli di test di tuning roll flip per vedere se ci stanno difetti con il mio drone vado ad aumentare piano piano questo slider fino a che non incorro in difetti temperatura calda del motore suoni strani motori accelerati comportamenti brutti allora so che mi devo fermare anzi devo andare devo fare un po' un passo indietro perché devo essere sempre un po' conservativo e poi devo togliere i difetti che sto vedendo fatto ciò si passa al tracking vado ad aumentare il tracking per rendere il mio drone sempre più incisivo sempre che mi segue bene nei movimenti e devo trovare il giusto equilibrio fra questi due slider sapendo che già ho trovato il massimo della mia di dopo di che vado ad aggiungere anche il drift wobble slider e vado a trovare il giusto rapporto la giusta via di mezzo che c'è tra questi due difetti cioè non voglio che drifta e non voglio nemmeno che ci siano wobble dopo di che se siete esperti eccetera andate a toccare questi valori solo sull'asse del pitch ricordatevi che in genere sui droni da freestyle eccetera c'è sempre un piccolo carico in più su questo asse perché c'ho la batteria c'ho magari l'action cam tenete a mente questa cosa finito tutto vado ad aggiungere il master multiplier secondo processo è più o meno simile ma stavolta do la priorità al tracking quindi lascio perdere il mio dumping vado subito a trovarmi il tracking che mi piace dopodiché come vi ho spiegato prima intervengo con il dumping trovo il giusto rapporto senza difetti e robe varie e vado ad aggiungere il mio drift wobble trovando il giusto rapporto e anche qui alla fine correggo se ne ho bisogno il rapporto sull'asse del pitch e vado ad aggiungere il master multiplier per aumentare magari le mie performance fino a dove posso il terzo approccio è quello del master multiplier quindi lascio tutto com'è vado ad aumentare o a diminuire il master multiplier in genere ad aumentare per vedere fino a dove mi posso spingere dando per scontato che già Betaflight 4.3 mi ha dato dei rapporti decenti vedo fino a dove posso spingere senza avere difetti dopodiché vado ad equilibrare gli slider il tracking e il dumping perché magari il master multiplier mi ha evidenziato dei difetti andandola ad aumentare e alla fine ci vado a mettere il drift wobble se sempre se ne ho bisogno una volta seguiti uno di questi tre processi scegliete voi quello che vi viene più facile fate una prova provateli tutti e tre io personalmente seguo e mi piace di più sempre quello del tracking allora che si fa si vanno ad aggiungere gli slider che avevamo tenuto fuori quindi vado ad aggiungere lo slider dello stick response sempre se ne ho bisogno faccio delle prove vedo se il drone diventa più reattivo se mi piace sempre stando attenti perché se vado ad esagerare con questo slider posso andare a generare difetti di P eccessiva di tracking eccessivo posso introdurre oscillazioni veloci aggiungetelo sempre con moderazione e vado se lo ritengo necessario ad aggiungere il dynamic dumping mettete caso avete difetti dati dalla D allora potete decidere di andare a introdurre il dinamismo finalmente della D perché ormai il rapporto giusto tra la P e la D l'avete trovato e vi potete andare a giocare l'introduzione di questo dinamismo bene spero di avervi fatto capire un po' meglio il funzionamento e le caratteristiche di questi slider buon tuning a tutti e DAIE Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti.